Io sono Roberto Moretto, sono un infermiere, sono qua in Skillab quest'oggi per la parte pratica sui corsi per l'emergenza nei posti di lavoro. Mi occupo di emergenza da 25 anni, prima come infermiere di unità coronarica cardiologia e poi come infermiere del 118 coordinatori di un pronto soccorso torinese per due anni ed ora mi occupo della formazione in emergenza per l'ASL Torino 2. Sono qua a cercare di divulgare e di dare capacità manuali per quello che riguardano le manovre di rianimazione sulle vittime di incidenti sul lavoro o comunque incidenti in generale, contando che ovviamente gli incidenti possono capitare sì sui posti di lavoro ma anche nel proprio domicilio piuttosto che per strada, piuttosto che in qualsiasi altro ambito.